Un principio di incendio è stato rapidamente circoscritto e poi domato dai vigili del fuoco di Fano alle 2.30 della notte scorsa nella zona industriale di Bellocchi. Le fiamme si sono sviluppate all'interno dei capannoni della Ricci profilati SPA in via Inaudi 22. Sulle cause che le hanno scatenate sono in atto le valutazioni dei tecnici dei vigili del fuoco, ma secondo le prime valutazioni sembrerebbero essere partite da un quadro elettrico vicino alla linea produttiva. Nel rogo che si è sviluppato sono stati danneggiati alcuni macchinari della fabbrica ed il materiale di in lavorazione a ridosso dell'incendio. A dare l'allarme da chiamare il 115 sono stati gli abitanti di un appartamento nella palazzina degli uffici, svegliati dall'allarme antincendio di cui l'azienda è fornita. I vigili del fuoco di Fano sono intervenuti con un solo mezzo e date le dimensioni del rogo non è stato necessario far ricorso all'autobotte. I danni, ancora in corso di valutazione, si sono limitati solo alle attrezzature. Nessun danno strutturale è stato causato dalle fiamme all'edificio. L'opera di spegnimento dei vigili del fuoco e di messa in sicurezza dell'area è terminata alle 5.30 del mattino. L'azienda Ricci opera nel settore del mobile dove lavora profilati per conto terzi. La produzione a causa dell'incendio è stata momentaneamente sospesa nella giornata di oggi a causa dei danni anche se limitati alla catena produttiva. Ma come ci ha detto uno dei titolari, Luigi Ricci, la ripresa delle attività avverrà già nella mattinata di domani, anche se con una capacità produttiva ridotta. Per riprendere al 100% il regime produttivo sarà necessario ancora qualche giorno.